Eccolo l'indicatore della stato di forma di Seller Con un occhio sulla palla e l'altro dall'altra parte del campo A vedere cosa sta facendo la sua avversaria Morbidissima la volete la Errani 15-0 L'ha trovata un buon passante la Zeng E chiude Sellerani con il rovescio Arriva agli ottavi di finale della Vutia Premiera di Dubai Lì dove è sempre arrivata in ogni sua partecipazione Non ha mai perso prima degli ottavi la Romagnola E questa vittoria per la 7-5-6-3 E' carica di motivazioni e forse la vittoria E questa è bellissima Lungo linea a chiudere in back Non c'è storia La Errani travolge la kazaka Non concedendole neanche un gioco Sarita vince 6-3-6-0 Ai quarti Affronterà Madison Brangle Lungo linea a chiude Lungo linea a chiude Sà si Sà muri Sà Lungo linea a chiude Grazie a tutti 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 Grazie a tutti